Ciao a tutti, sono Andrea Boscoscuro. Nel 2009 ho vinto il campionato italiano categoria 600 stock. Ho fatto vari anni, vari campionati a livello nazionale e internazionale. Quest'anno partecipo all'R1 Cup, l'obiettivo è di lottare con i migliori e se c'è possibilità di vincerla. Corro con la R1 perché è una moto facile, divertente e faccio parte del trofeo dove si può veramente vedere il livello del pilota in quanto le moto sono tutte uguali. Dove voglio arrivare? Vincere!